C'è ancora un atteggiamento di incredulità da parte di molti e noi speriamo che la nuova situazione permetta di eliminare questo problema. Dopo mesi di incertezze, lavoratori e sindacati vogliono vederci chiaro. Sono state troppe le delusioni che si sono susseguite per accogliere con calore l'ultimo annuncio del CDA dell'azienda. Martedì pomeriggio è stato infatti proprio uno dei consiglieri della FIMER, Luca Bertazzini, che da giorni gestisce in prima battuta il confronto a presentarsi ai cancelli dell'azienda di Terra Nuova Brecciolini. Qui ha incontrato prima i dipendenti, poi i sindacati, per illustrare il piano di rilancio che passa dal fondo inglese Clementi. È un fondo che verserà nelle casse della FIMER degli investimenti cospicui. Parte da presupposti diversi, un inserimento nella società in termini di equity, cioè di capitale, di una cifra importante che si aggirerà nell'intorno di 95 milioni. E questa è veramente una cifra significativa. Già depositato il contratto siglato con Clementi, l'ultima parola aspetterà adesso al Tribunale di Milano. Dopodiché daremo immediatamente esecuzione in modo da avere quanto prima possibile una disponibilità finanziaria commessa da Clementi nell'intorno di 17 milioni di euro, parte dai 95, che sono assolutamente indispensabili per permetterci il proseguimento dell'attività. Questo ammontare di denaro importante si articolerà in due tranche, la prima da 7 e la seconda da 10 e tutto questo dovrebbe avvenire nell'arco dei prossimi giorni. Un'iniezione di liquidità fondamentale per la ripresa della produzione, ferma dallo scorso lunedì per mancanza di materie prime. La produzione è l'angue proprio perché non riusciamo a sbloccare il supply dei componenti che sono ospitati presso magazzini e soprattutto presso trasportatori e naturalmente abbiamo bisogno di danari per pagare il loro servizio e quindi sbloccare questa merce.